Con le mie scarpe da campione Anche però ci correrò Ascoltando la musica rock Tra sogni e sudore Respirerò E passerò attraverso i muri Di una realtà che dice no In nome dell'amore Per tutti i miei giorni più scuri Risplenderò Io sono un runner E corro veloce nel vento Anche se il vento A volte mi sposta di un po' Ma con tutta la segge di vita Che è dentro di me Io non mi arrenderò Perché sono un runner E gioco la mia sfida nel tempo Corro più forte Di tutta la mia malinconia Che come calamità Tenta di tirarmi indietro Ma io resisterò Ma io resisterò Ed è per questo che credo ancora E la mia fede più forte ora Se mi fossi lasciato Un po' E con tutta la segge di vita Che è dentro di me Io non mi arrenderò Con tutta la segge di vita Che è dentro di me Io non mi arrenderò Perché sono un runner E gioco la mia sfida nel tempo La rubrica del podismo A cura di Pino De Gidio E Mario Moretti Che come calamità Tenta di tirarmi indietro Ma io resisterò Con le mie scarpe da campione Anche però Ci correrò Solamente sono Buonasera Ben ritrovati alla rubrica del podismo Sono Pino De Gidio Mario Moretti Buonasera Bene Regia C'è sempre il nostro Federico Sozio Che ci assiste notevolmente Per queste trasmissioni E adesso Mario Andiamo subito con i resoconti Delle ultime due settimane Perché la scorsa settimana Non siamo andati in onda Cominciamo con il 12 Il 12 La domenica passata C'è stata la Corri Fregene Organizzata dalla Cat Sport Che ha fatto registrare 1117 atleti arrivati A Roma c'è stata la corsa del ricordo Questa è una manifestazione Che si fa il ricordo dei caduti Quel Cidio delle Foib Su in Alta Italia Da parte dei comunisti di Tito Ha fatto registrare 646 partecipanti Inoltre a Scauri In provincia di Latina Si è corsa la Giano Trail Con 234 atleti arrivati Per quanto riguarda le gare Di una certa importanza Fuori dal Lazio Si è corsa la mezza maratona di Verona La Giulietta Romeo Che ha fatto registrare la presenza Anche di 68 atleti italiani Laziali scusate Ma soprattutto voglio citare La mezza maratona di Barcellona Che è la mezza maratona Più partecipata d'Europa E forse anche nel mondo Con oltre 15.000 partecipanti E tra questi 997 atleti italiani Passiamo al 19 domenica scorsa C'è stata la Rock Run La manifestazione che sicura Ostia Con 1155 atleti arrivati E poi c'è stato un trial Sorbo Il Sorbo si trova nella località Formello Sempre in provincia di Roma Con 149 atleti arrivati Il totale quindi di tutti gli atleti Laziali in queste due settimane È stato di 3.369 atleti Quindi un buon numero Stiamo tornando adesso che comincia la bella stagione A risultati molto positivi e incoraggianti Per quanto riguarda il podismo amatoriale laziale Passiamo adesso alle manifestazioni di domenica prossima Comincia il Runners Riedi Tour 2017 Questo è un tour che si manifesta in una trentina di gare Di gare tutte in provincia di Riedi E qualcuna anche qui nel Lazio In provincia di Roma Si corre a Stimiliano È un lunghissimo Sono due distanze 28 km e 14 km La partenza è alle 9.30 A Frosenone si corre la Corridaglia Anche qui partenza alle 9.30 Sono 10 km E infine la gara più rappresentativa di questa settimana La X Miglia o Deca Miglia Che dir si voglia Sono 14 km e 800 metri Si corre a Tor Vergata E anche qui si parte alle 9.30 E con questa abbiamo terminato La presentazione delle gare di domenica prossima Per quanto riguarda la X Miglia Vorrei aggiungere che c'è stata in settimana La conferenza stampa A cui ha partecipato in prima persona L'organizzatore che è Gianfranco Bazzamo Noi siamo stati presenti C'erano diversi atleti C'erano soprattutto Tutti gli esponenti Dello staff organizzativo di questa gara Che è il ricordo di un generale Che l'ha ideata anni fa E poi è stata ripresa ultimamente Questo è il terzo anno che si corre questa manifestazione Bene, io ho concluso per quanto riguarda il resoconto E la presentazione delle gare di domenica prossima Facciamo un breve stacco musicale E poi cominciamo con i collegamenti Con alcuni personaggi del mondo podistico E poi cominciamo con i collegamenti E poi cominciamo con i collegamenti E poi Certo Certo M Allora Siamo in collegamento con Luciano Duchi Il grande Luciano Duchi L'ideatore della nuova Roma Ostia Pronto Luciano, sono Pino Degidio Ciao Luciano, sono Mario Moritti L'ideatore della nuova e della vecchia Diciamo della nuova perché per gli anziani Non erai 21 kg, non era mezza maratona Poi tu partecipavi come atleta addirittura Dico bene Luciano? Eh sì Bene Senti Senti allora ci dovrei dare le ultime notizie Come vanno le iscrizioni Io in sede di resoconto delle gare Di queste ultime due settimane Ho citato la mezza maratona di Barcellona Che ha fatto registrare 15.000 Oltre 15.000 partecipanti Credo che sia la più partecipata in assoluto Qui in Europa Forse anche nel mondo Tu sai qualcosa in merito? La mezza maratona di Newcastle Pontein in Inghilterra Che fa circa 50.000 partecipanti Madonna E' vero che No no ci stanno anche quelli che corrono in 4 ore Così camminano E' tipo la marcia della pace Però è una cosa incredibile E' stata pure un anno Campionato del mondo di mezza maratona Bene Quella proprio sta fuori quota Fa più del New York come tossificati Bene Luciano ma Torniamo alla nostra La nostra gara internazionale Che in Italia è la più partecipata E' la più importante perché è una gara internazionale Di altissimo livello Allora come siamo con le iscrizioni Luciano? Guarda le iscrizioni Stiamo sfiorando quota 13.000 Siamo da 2-3 anni Stagniamo sullo stesso numero Tutti i sforzi che stiamo facendo Per cercare di implementare Però Caro vino Che Mario Vi sarete sicuramente accorti Che Questo grande fenomeno della corsa Perlomeno la corsa Nelle gare agonistiche Che sia un pochino Stoppato Perché c'è tantissima gente Che cresce in maniera esponenziale Nei parchi Su strada Che corre Perché anche quando Che so Io stavo a vedere la corsa di Michele Nel 25 Il 22 gennaio E vedevo centinaia di persone Che si allenavano E camminavano Correndo Quindi ho pensato Se 4-5.000 romani Stiamo facendo La corsa di Michele E ne vedo così tantissimi Che si allenavano Penso a quanta gente C'è che corre Sì ma infatti Infatti Luciano Quello che Mario Può essere preciso Mario Ogni settimana Questa settimana Quanti atleti hanno corso? Beh diciamo Nelle ultime due settimane Perché l'altra Settimana Non siamo andati in onda Quindi ho fatto Un resoconto totale Sono oltre 3.000 Diciamo Contando anche Un centinaio Di atleti Che sono andati A Barcellona Io parlo di atleti Laziali Quindi stiamo intorno Quasi alle 4.000 Partecipanti In due settimane Quindi una media Di 2.000 E non siamo ancora Sui numeri alti Perché quando Cominciano le belle giornate Che le gare Ultimamente Sono state solo Due gare Domenica Ma a volte Ce ne stanno 6-7 E quindi Si arriva Che le gare Che le gare Che le gare